Presidente, come posto oggi su Facebook ha rotto gli indugi e è pronto a ufficializzare la sua ricandidatura? Io ero già pronto da tempo, nel senso che avevo dato la mia disponibilità, ieri ufficialmente la Lega mi ha candidato, quindi a questo punto è chiaro che a questo punto ho supporto, a questo punto visto che anche gli alleati avevano già detto che mi sostenevano, a questo punto è chiaro che riparto con determinazione. Presidente, sull'eventuale candidatura della Moratti come risponde? Non lo so, io non ho niente da rispondere, vediamo un attimino cosa succederà. Quando si attende che venga scelto tutto questo nodo nel centro-destra? Credo che ci troveranno a breve e affronteranno anche questo problema.